A volte nella vita, incontri qualcuno, qualcuno di diverso da tutti gli altri e ti rendi conto che non sei l'unico. Alcune cose ti segnano la vita. Ti prego, vieni. Cose che non puoi spiegare, cose che diventano segreti. Segreti che tieni nascosti. Quando hai iniziato tutto questo? E perché? Ci deve aiutare. Alex! Alex! Ma che diavolo vi avete fatto? Sentieri misteriosi devono essere percorsi. Se vuoi trovare le risposte, permetterai al tuo spirito di conoscere la verità. Il codice dell'anima. il codice dell'anima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.